con il termine elettricistea si indica il tecnico addetto all'installazione e alla manutenzione di impianti elettrici sugli elettricisti perché gli elettricisti sono permalosi perché non sopportano le prese in giro spiegazione la presa è il dispositivo con cui è possibile usufruire della corrente elettrica la presa in giro in questo video è l'insieme degli scherzi con cui si prende in giro una persona la presa ha anche altri significati